L'architettura ha come fine la bellezza. E la bellezza forse è una delle cose immateriali e soggettive che aiutano le persone a vivere meglio. Il problema fondamentale è imparare ad alterare. Conoscere la regola per alterarla costantemente. Non dobbiamo demolire più niente. Rimettete in gioco il patrimonio che c'è perché siamo come una famiglia che non sa se di qui alla prossima generazione potrà trasmettere un patrimonio. Il nostro problema è trovare, come bellezza democratica, un incredibile antidoto alla noia. Isplora.com 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 Isplora.com